Recording is on. E di, quindi 4 più 4 facciamo che qua è un lato e anche 4 di altezza, più o meno è così, questo 1, 2, 3 e 4, facciamolo così. E' più difficile fare i disegni che capire. Ok, quindi questa è la mia stanza. Adesso cosa succede? Succede che questo suono oltre ad arrivare diretto, no? Col suono diretto avrà le riflessioni, cioè questo suono si espande su tutti i lati e quindi colpirà il muro in punti diversi, no? E di nuovo dobbiamo calcolare il percorso che fa questo suono, per esempio per arrivare qua, da qua a qua, sempre all'altoparlante abbiamo visto che dobbiamo calcolare. da qui a qui, no? Poi da qua, questo per ciascun altoparlante bisogna farlo naturalmente, da qua a qua, e anche da qua a qua. Ok? Queste sono le quattro prime riflessioni, in realtà le prime riflessioni sono sei, ma abbiamo detto che non consideriamo soffitto e pavimento. Ok, come si fa a calcolare, rimettiamo il suono perché nel suo tempo è un po' sparito, come si fa a calcolare questo, queste riflessioni? C'è una tecnica così, euristica abbastanza, aspetta, ma voglio impicciolirlo. Allora, si immaginano delle stanze virtuali intorno alla stanza reale, queste si immaginano così, le stanze sono altre stanze di 4 metri per 4, che si trovano qui, si trovano ai quattro lati, e in realtà si trovano anche da altre parti. Adesso disegniamo solo queste quattro, ma ce ne stanno infinite. ok, e facciamo anche questa, già che ci siamo, e anche questa, certo, se sapessi disegnare sarebbe meglio. fate conto che siano uguali, eh, facciamo finta. Ok, una volta che abbiamo fatto queste stanze, possiamo vedere che le riflessioni sono in realtà una collocazione simmetrica rispetto a queste stanze. Cioè, per esempio, questo sono qua, la prima riflessione è come se venisse da qua. Ok, se vi fate i conti, vedrete che, eh, la, la, diciamo, il calcolo di questo doppio percorso è come se questo venisse da qua. D'altra parte, qui è come se venisse da qua, no? E qui è come se venisse da qua, cioè, eh... Ok? E qui è come se venisse da qua. Va bene? Quindi, il posizionamento è come se, quando si dice se i muri potessero parlare, è come se i muri esprimono altre, diciamo, quattro immagini dello stesso suono. Naturalmente i muri assorbono, quindi non c'è soltanto la distanza, qui c'è anche un coefficiente d'assorbimento, ma per il momento mettiamo conto che i muri siano degli specchi perfetti, dei specchi perfetti riflettenti. Quindi bisogna calcolare per tutti e due gli altoparlanti la, eh, questo, la posizione di questo suono qua. Allora, dove sarà questo suono qua? Questo suono qua sarà, diciamo che, allora, abbiamo detto che sono delle 8x8, quindi qua, questo qua, questo si trova a 4,4. Paff, no, non l'ha preso. Qui. Allora, questo qua si trova a 4, qui siamo a 2 e 4, no? Quindi se io faccio 4 meno 2 fa 2, quindi questa si troverà più 2 rispetto alla parete. Quindi questo si trova a 6, scusatemi, si trova a 2 come x e 6 come y. È chiaro? Perché ci sono, no, cosa avevamo detto? No, scusatemi, questo è 3, no, quindi è 3 e 5, è 2,5. Perché c'è un solo metro qua, c'è un metro qua e quindi c'è un metro qua, ok? Qui lui si trova a 2, quindi qua invece ci sono 2 metri, ci saranno altri 2 metri qua, quindi lui si trova a 4 più 2 che fa 6 delle x, ok? E qui stiamo a 3y, no? Poi qui si troverà, siccome qua c'è 4 metri più, lui si trova a 2 metri, 6 metri, ok? Questo qua si troverà a 12 metri, a meno 12, non mi sbaglio, è 2, poi ci sono 4 metri qua, e quindi 4 più 2 e sono meno 12, meno 12 di x e sempre invece la y rimane ferma a 3, ok? Invece in questo caso qua noi ci troviamo con la x ferma che quindi si trova a 2 e 3 più 4 fa 7, 3 moltiplicato fa meno 14. Tutto chiaro su come vengono calcolate queste cose qua? Rispondetemi sì o no? Sì, sì. Ok. Ci sono... Cioè state capendo, non ci sono... È molto lineare il discorso, non è... Calcoli che l'abbiamo fatto anche parzialmente stamattina, abbiamo fatto un discorso molto simile. Ah beh, allora lo faccio io. No, 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 abbiamo parlato della stereofonia, ma non della spazio... Cioè abbiamo introdotto la spazializzazione parlando anche della stereofonia. Ok. No, il problema è come si fa a farla questa cosa qua. Ok. Allora adesso, quindi, noi che cosa dobbiamo fare qua? Sostanzialmente. Questo è un modello molto semplificato, però un modello che funziona. Abbastanza, diciamo, approssima abbastanza. Allora, facciamo l'elenco delle cose che dobbiamo fare. Calcolare i due diretti. I due suoni diretti. Ok. Poi, calcolare i due diretti significa distanza, calcolare la distanza, e poi ampiezza e ritardo. Ok. Poi calcolare le quattro riflessioni le riflessioni dei quattro muri per due altoparlanti. Questo perché abbiamo due altoparlanti, se ne avessimo di più, dovremmo calcolare di più. E sempre calcolare la distanza per prima e poi, in base alla distanza, l'ampiezza e il ritardo. Ok. Dopodiché, dopo le quattro riflessioni, in realtà ci sarebbe ancora roba, perché ci sono le seconde riflessioni. E le seconde riflessioni si costruiscono in queste altre stanze. No? Sono i rimbalzi dei rimbalzi, quindi qua ci sarà un'altra, ci sarà un'altra stanza, le altre stanze, eccetera, eccetera. Però, diciamo che non cambia molto, va abbastanza bene approssimare le prossime, le riflessioni di ordine più alto con una sorta di coda di riflessioni un po' random. Perché vedete che queste distanze qua, queste sono molto precise, sono facili da calcolare, ma dopo si moltiplicano le riflessioni, si mischiano anche con le terze, le quarte, le quinte, eccetera, eccetera, si mischiano tutte insieme e in fondo se uno fa una cosa abbastanza random fa la classica coda di riverbero e questa coda di riverbero la si può fare con un uno o più, diciamo, diciamo un paio di filtri all pass che sono dei filtri che passano tutte le frequenze, sono come dei comb ma al contrario. sapete che cosa sono i filtri comb? Li avete fatti? Sì, sono i filtri quelli appunto comb perché sembrano un pettine che fanno tutte delle specie di collinette sulla banda. sì, perché se io prendo sono sostanzialmente dei filtri fatti così allora questi sono i comb non sono gli all pass se io c'ho un comb così il comb che cos'è? è sostanzialmente una linea di ritardo con un feedback madonna santa sto disegnando veramente questa è una linea di ritardo z alla meno n no? e una volta che io esco dalla linea di ritardo lo ributto dentro naturalmente con una certa attenuazione ok e questo ributtarlo dentro fa sì che ci sono ci siano delle frequenze che entrano in entrano in controfase perché a seconda del ritardo ci sarà una qualche frequenza che entra in controfase lei e tutti i suoi multipli quindi sostanzialmente vado presto qua perché tanto sono roba che vedrete o avete già visto e quindi la lo spettro risultante è una roba che appunto sembra un pettine ok adesso questo è con diciamo un segnale positivo che va da più da 0 a al massimo 1 ma in realtà 0 9 9 9 ok non 1 perché questo rischia di esplodere se va sopra 1 perché amplifica in continuazione e se volete fare un all pass invece cosa succede quello che fate è semplicemente invertite il cioè fate siccome questo crea il comb allora l'all pass è semplicemente ci aggiungete fate fate due fate due 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 rami sempre il ritardo è uguale qual è l'idea dell'all pass l'idea dell'all pass dice va bene io mi mangio alcune frequenze beh ce le rimetto dentro e come faccio a fare una cosa del genere faccio che qui io faccio partire due rami e qui li risommo no qui qua ci metto un più e qua ci metto questo e adesso con questi due rami io faccio un ramo di qua e un ramo di qua allora qua ci metto un valore di attenuazione e qui ce ne metto un altro allora il trucco è che appunto se io qua ci metto un valore che chiameremo G più G qua ci metto meno G in maniera che questo più G che mi taglia via le frequenze lo 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 combino con quello che ce le rimette praticamente se fosse solo questo io avrei un affare che fa questo tipo di cose qua che fa questo tipo di cose qua adesso lo lo facciamo così no quindi siccome queste cose si sommano come si dice a Firenze poggia e buca fa pari e la risposta dell'all pass è piatta si chiama all pass perché è un filtro passa tutto ok il 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 fatto è però che nel passare tutto ritarda il segnale e lo ritarda in maniera siccome questo lo reggena più volte lo ritarda in maniera abbastanza cioè dopo un po' di giri lo ritarda in maniera casuale e che è proprio quello che ci serve perché ci servono dei ritorni più o meno fatti a caso no quindi il 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 la risposta dell'all pass è poi non è non è del tutto vero perché insomma comunque è più o meno piatta no e questo si chiama all pass quindi se noi praticamente facciamo una combinazione di cose che è fatta dai dalle prime riflessioni che sostanzialmente sono dei comb senza retroazione perché le prime riflessioni sono e i diretti le prime riflessioni e poi un paio di filtri al pass riusciamo a collocare il suono nello spazio naturalmente i filtri al pass devono avere un ritardo di partenza che viene dopo le prime riflessioni e deve essere ragionevole rispetto alle dimensioni della stanza io di solito come regola euristica piglio la riflessione più lontana che in questo caso è questa e faccio arrivare l'all pass dopo questa quindi un po' dopo ok ok questo questo è come con questo già si fa molto grezzo molto approssimato però già si fa una buona collocazione spaziale perché dico grezzo approssimato perché diciamo che qui c'è da dire un'altra cosa che oltre al fatto di voler simulare una stanza che non esiste noi abbiamo una stanza che c'è e quindi anche quella suonerà quindi noi dobbiamo fare in modo che la stanza che c'è sia il più assorbente possibile no e la e la stanza e la stanza virtuale invece sia molto sonora perché altrimenti abbiamo troppa informazione della stanza reale che falsa quella della stanza virtuale però diciamo che riusciamo a ottenere tutte queste condizioni e riusciamo a fare questa cosa qua come dobbiamo organizzare questo lo possiamo fare in Csound per esempio chiedo è una domanda secondo me si è fattibile realizzare la stanza virtuale e tutto sì certo che è fattibile bisogna fare bisogna fare in bisogna fare un po' di dunque aspettate che salviamo questo dove sta scusate salvo questo facciamoci un attimo intanto che abbiamo la lavagna facciamoci uno schemino di come deve essere fatta che cosa dobbiamo mettere nella nostra orchestra di Csound allora nella nostra orchestra di Csound noi avremo dei dei generatori di suoni che possono essere quelle che avete usato fino adesso delle cose che generano suono adesso il problema è che queste cose che generano suono generano tanti suoni ma li generano adesso li devono generare all'interno di una stanza e quindi la cosa che conviene fare è avere tante stanze magari uguali possono essere anche diverse le stanze ma il discorso si complica e tante stanze uguali e ciascuna scrive nella propria stanza le stanze si sovrappongono e alla fine si sommano ok quindi alla fine diventa una stanza sola ma allora questi sono i generatori gen 1 gen 2 gen 3 ora questi generatori possono generare tante note ok però devono andare tutte dentro dentro la loro stanza che genera tutte le riflessioni e la stanza tra l'altro produce tutto quello che bisogna produrre questi sono mono sono singoli canali la stanza esce fuori con per esempio in questo caso l'abbiamo a tastero ma potrebbe uscire con 8 canali 16 32 100 mila ok dopodiché tutta sta roba si somma insieme e esce fuori ok quindi e produce sostanzialmente due canali cioè vabbè queste si sommano ovviamente sinistro col sinistro e il destro col destro ok questo perché due allora questi sono tre programmi che fanno la la room cosiddetto room 1 room room 2 e room 3 allora come vedrete il discorso si incasina tantissimo qua non è complicato scusatemi non è complesso ma diventa molto complicato per cui bisogna usare una serie noi abbiamo visto come usare zac sul c sound o no ricordatemelo l'abbiamo visto noi l'anno scorso noi no infatti mi ricordavo ok vabbè allora c'è un sistema di patching di c sound che si chiama zac che sostanzialmente stabilisce dei canali di comunicazione tra strumenti e sono canali audio o di controllo sono separati e ne potete fare si inizializza all'inizio dell'orchestra e potete mettere 10.000 canali da una parte e 10.000 dall'altra lui se ne sbatte tutto bene allora a questo punto qua voi potete fare che questo 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 generatore qua scrive con un oggetto che si chiama zav veramente questo si chiama zavm e dopo spiego perché e e qua questa cosa si legge con un oggetto che si chiama zar da una parte scrive da una parte legge perché deve essere zavm e non zav perché il il è importante che se questo se questo strumento genera tante note e per esempio qui c'è diciamo genera delle note che magari si sovrappongono anche che non che si accavallano eccetera eccetera è importante che queste note si accumulino quindi zavm è la è un canale in cui è possibile accumulare le varie cose se fosse solo zav lui sovrascriverebbe le cose e quindi non andrebbe bene il che però significa che in fondo quando è fatto tutto il processing bisogna usare un clear del canale per dire ok una volta fatte le cose perché altrimenti continuano ad accumularsi e la faccenda esplode adesso qui stiamo per il momento stiamo facendo delle spazializzazioni statiche che non si muovono se poi vogliamo muoverle allora ci vogliono degli altri oggetti che sono oggetti di movimento degli altri degli altri proprio strumenti che però fanno solo il movimento dei suoni per cui non lo so vanno in giro fanno cerchi fanno righe fanno quello che volete ma insomma ricordatevi che non potete mai andare davanti all'oltoparlante con questi oggetti ma sempre dovete passare sempre dietro e adesso per il momento non lo facciamo ma poi in futuro potremmo fare i vari movimenti movimento 1 movimento 2 io di solito faccio sostanzialmente circolari lineari poi possono essere figure a 8 quello che mi pare e questi diciamo che vanno invece invece di invece di avere diciamo la posizione dell'oggetto cucita all'interno della stanza la rendiamo mobile e però questi sono dei oggetti K rate quindi Z K W e così via e naturalmente potreste avere potreste avere movimenti che controllano due o più posizioni e così via ok queste sono tutte note separate una volta che dovete fare un movimento fate la nota del movimento ok chiaro come funziona questo è la spazializzazione la localizzazione spaziale dei suoni fatta in C sound quindi adesso andiamo a vedere adesso andiamo a vedere abbiamo non tantissimo tempo ma cominciamo a vedere come si fa a fare questo oggetto qua cioè l'oggetto room ok un'ultima cosa che c'è da dire questo oggetto un'ultima cosa che c'è da dire è questa che appunto come vi ho detto voi potete scegliere vari canali qui ci vuole un po' d'ordine perché vedrete che il discorso è molto incasinato quindi un consiglio che vi do è quello di stabilire che per esempio i generatori vanno da che ne so da da 1 a 20 no quindi avete tutti i vostri strumenti instr 1 2 3 bla 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 fino a 20 poi i quelli di movimento vanno da instr 100 a quanti ne volete e le room vanno da instr 1000 per esempio eh a quante ne volete e sono tutte uguali queste quindi allora questi sono eh generatori movimento eh e room ok a questo punto usate P1 il P1 cioè il numero dello dello strumento come eh canale come no come componente del canale eh di zac per tenere diciamo sotto controllo i canali cioè eh eh qui basta sottrarre 1000 per esempio eh e se io ho 1000 1001 1002 e uso questi automaticamente desumo i canali perché il problema è qua non incasinarsi questi sono tutti canali numerici no quindi sapere esattamente dove sta il mio suono dove no le cose si incasinano molto in fretta ok questo la 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 questione della spazializzazione è una questione nella quale sarebbe possibile cioè è anzi auspicabile adesso la faremo a manina ne scriveremo scriveremo una stanza a manina però vedrete che è talmente complicata e arzigogolata che alla fine sarebbe molto meglio scrivere un programmino di python che realizza anche solo realizza solo la stanza ok poi la potrebbe realizzare separatamente in un file separato che viene incluso da si sa dall'orchestra al momento di suonare ok vedrete che qua il discorso si incasina parecchio per cui è importantissimo essere estremamente ordinati e ok quindi andiamo a costruire una roba del genere maestro scusi se la interrompo però devo lasciare anticipatamente la lezione quindi questa parte la recupererò tramite registrazioni ci sono ecco quello che volevo chiedere ci sono domande perché ho levato la condizione ma non volevo ci sono domande è tutto chiaro è abbastanza chiaro ok Ilaria Mauro tutto chiaro sì sì ok allora arrivederci a tutti buona serata ciao arrivederci ok allora passiamo a vedere come si implementa una roba di questo tipo e lo facciamo cambio cambio sharing e lo facciamo su prendiamo questo ok prendiamo questo ok quindi qua ci sta la roba di questa lezione qua ok adesso cominciamo a vedere un po' come si facciamo una prima cosa che si chiama room.org qua non metto tutte le le cose di sr e kr perché tanto le questo sarà questo codice verrà incluso da un altro codice quindi mi mi riscrivo le cose che devo che devo fare qui le cose che devo fare è leggere il segnare calcolare no devo leggere anche i dati della stanza perché questi mi ritengo in una tavola per esempio leggere i dati della stanza e poi devo fare anzi questo lo faccio sì vabbè possiamo fare così e poi cos'altro devo fare leggere le posizioni degli altoparlanti fino a diretti diretti per ogni altoparlante e calcolare e calcolare le riflessioni le prime riflessioni sulle pareti e e infine aggiungere all pass allora facciamo queste cose le facciamo piano piano una per una allora cominciamo col dire va bene facciamo creiamo uno strumento e in realtà sappiamo già che non ne creiamo solo uno ne creiamo tanti quindi lo strumento 1000 lo strumento 1001 lo strumento 1002 1003 1004 e così via vediamo quanti ce ne pare che cosa facciamo subito ci ricaviamo l'indice dal quale leggiamo l'indice che ci serve per i canali quindi diciamo che l'index è questa è una tecnica che possiamo ci facciamo i index offset che in questo caso è 1000 perché lo strumento è 1000 e quindi il mio indice è sostanzialmente più uno meno index offset quindi per esempio se il mio se il mio strumento è 1000 l'indice sarà 0 io leggo dal canale 0 sia il k che beh per il momento leggiamo solo la r e quindi siamo a cavallo un pochetto e anche documentiamo in maniera che io posso usare il p1 come anche numero del canale in cui leggo le mie cose qui leggo il mio segnale lo leggo e lo metto dentro una variabile a sig e lo leggo da zar con il numero index ok perché adesso noi abbiamo il nostro la nostra posizione statica del segnale che viene letta viene letta da a questa a questa oggetto corrisponderà un una riga di codice in cui ci sarà una riga della partitura in cui ci saranno anche le la posizione dell'oggetto quindi qua scriviamo i x è uguale per esempio p4 no questo è tutto in metri e i y è uguale a p5 questa è la posizione no coordinate coordinate del suono e per il momento sono fisse appunto però capite che farla mobile poi avendo altri strumenti che si occupano di modificare queste x queste diventano k e semplicemente si tratta di leggerle attraverso un canale e tutto il lavoro che facciamo adesso si sarà mantenuto allora qui si legge leggere il segnale e fino a qua ci siamo adesso abbiamo l'altra l'altra cosa calcolare i dati della stanza ok adesso per calcolare i dati della stanza noi i dati della stanza ce li mettiamo in una in un'altra ce li mettiamo in una tavola che si trova allora questa leggere i dati della stanza quindi qua apriamo un altro file che chiameremo per il momento room.scoma il quale contiene per il momento contiene semplicemente delle una tavola che sono i dati della stanza quindi questi sono coordinate coordinate le coordinate della stanza e posizioni degli altoparlanti in maniera che se noi decidiamo che gli altoparlanti stanno in una posizione diversa oppure basta cambiare questa tavola e siamo a cavallo la tavola come è fatta la tavola è una questa chiamiamola F1000 e questa è tempo 0 è una tavola di 16 posizioni non c'è bisogno di fare una tavola enorme perché qua si prendono i numeri come vengono dalla tavola e tra l'altro non li normalizzo per cui utilizzerei la tavola gen2 che è quella che appunto scrive dei numeri e basta però la utilizzo a meno 2 in maniera che non mi normalizzi tra 0 e 1 questi valori che gli sto per dare allora per prima cosa mettiamo le coordinate della stanza ammettiamo semplifichiamo ancora ammettiamo che la stanza siano sia rettangolare o quadrata insomma abbia quattro mura non sia non abbia più di quattro mura quindi possiamo rappresentarla con l'angolo sinistro in alto l'angolo destro in basso e questo ci dà una dimensione della stanza e quindi questa è scriviamola così l'angolo sinistro cosa avevamo detto è meno 4 e 4 no e l'angolo destro è 4 meno 4 allora queste sono adesso scriviamocelo bene coordinate coordinate coord angoli della stanza verso destra basso oppure sinistra sinistra fronte destra dietro ok e questo è fatto così adesso mettiamo le coordinate degli altoparlanti che avevamo detto erano più 1 1 e no il sinistro era qua e il mio sinistro è meno 1 alto parlante sinistro è meno 1 e 1 davanti e l'altoparlante destro è 1 1 queste sono eh e questa la leviamo equilibrato queste sono le coordinate degli altoparlanti e e queste si riducono a essere questo cioè x y e x y naturalmente anche qua se fossero di più gli altoparlanti ci vorrebbero le coordinate di tutti gli altoparlanti ok questa è una tavola che io posso leggere e tra l'altro avendola numerata come 1000 potrei usare il il mio più 1 qua senza senza però offset no l'e-table corrisponde esattamente al i 1 però se io faccio così quando uso la 1001 mi vorrà siccome questa tavola è uguale per tutti la mettiamo a 1000 e buonasera ok questo è il numero della tavola a questo punto da qui posso leggere i dati della stanza allora se adesso qua cominciamo a incasinarsi con i nomi perché questo è il muro sinistro pizza dunque io qua devo leggere così e quindi questo è table e devo leggere il valore adesso facciamo una verifica perché non mi ricordo mai se quel valore è 0 ma probabilmente è 0 e il numero della tavola è questo ok ok adesso scusate ma tengo in ordine perché dopo si incasina molto la faccenda allora adesso facciamo il y muro sinistro y questo veramente non è il muro è l'angolo sinistro allora facciamo così questo lo chiamiamo up left x e up left y e questo non è lo 0 è l'1 ok poi ci abbiamo altri due valori che sono down right y x scusatemi questo è il 2 e il 3 e questo è i down right y ok questi sono i due i due angoli della stanza che definiscono la stanza adesso facciamo le posizioni altoparlanti allora abbiamo e sdk left x questa è la table 4 e isp k left y è la table 5 poi ci abbiamo spk right x che è la 6 spk right y che è la 7 va bene adesso qua facciamo che ci mettiamo questo dobbiamo continueremo la prossima volta però diciamo che questo già avanti qua ci mettiamo l'end-in subito prima dell'end-in per essere sicuri ci mettiamo un zackl del canale il clear del canale per non dimenticarcelo e quindi fa il refresh di tutto vuol dire fa il refresh di tutto perché con lo zackl alla fine ritorna all'inizio e rilegge tutto facendo il refresh svuota svuota il canale e svuota il canale index in maniera che siccome io lo scrivo con zackl poi dopo vedremo questa cosa qua la tengo separata ok e quindi qua questo lo continueremo la prossima volta adesso lo salvo e poi vi rimetto tutti che lo potete fare su il cloud oh oh um Grazie.